Il centro Fiera del Garda di Montichiari per la 24esima volta ha ospitato Seridò, la manifestazione organizzata dalla Fismed Brescia con la nuvola nel sacco. In questi due anni di interruzione non sapevamo se e come Seridò sarebbe potuto ripartire. Abbiamo un po' scommesso, ci siamo affidati anche con un atto di fiducia davvero più grande di noi per volere a tutti i costi rilanciare Seridò. Dai giochi giganti allo spazio piste e rotelle senza dimenticare i gonfiabili. A ciò si aggiungono gli spettacoli teatrali, le aree riservate ai bambini di età 0-3 anni, i tantissimi laboratori creativi e molto altro ancora. Seridò è una delle manifestazioni del centro Fiera più attese, non solamente dai Montichiari, ma a quale punto di riferimento, soprattutto per la provincia di Brescia, ma non solo, anche Mantua, Cremona, perché sanno che quando vanno a Seridò vengono a Montichiari. Quindi i numeri della Fiera da sempre lo dimostrano, è uno dei punti dei poli attrattivi di Montichiari ed è motivo di orgoglio per la nostra cittadinanza. Negli spazi del centro Fiera è stata preparata un'immensa distesa di tappeti con dinosauri, trenini, fattorie, chiodini, bambole, casette e costruzioni. Questo è padiglione famiglia, quindi sono giochi strutturati per i bambini e le famiglie, quindi l'intervento dei volontari comunque è minimo perché lasciamo molto spazio appunto che ha il gioco tra i genitori e i bambini. Ciao! 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 Ciao!